Oggi noi stiamo subendo una sorta di perversione, paradossalmente si confondono i ruoli, si confondono le posizioni. In questi giorni in cui si sta rievocando nel quarantennale la memoria di quei giorni, di quei momenti, abbiamo subito l'oltraggio di vedere dei sottopancia nei quali si riporta dirigente della colonna romana delle Brigate Rosse. Io credo che le parole debbano avere un peso e un significato e oggi noi dobbiamo ricordare chi stava da una parte e chi stava dall'altra. Questi signori erano delinquenti due volte, perché non solo uccidevano, ma cercavano in una logica di morte di sovvertire le istituzioni democratiche del Paese. E oggi riproporli in asettici studi televisivi, come se stessero discettando della quinta essenza della verità rivelata, credo che sia un oltraggio per tutti noi, ma soprattutto un oltraggio per chi ha dato la vita e ha dato il sangue per questo Paese. Grazie. Perché le parole, mi rendo conto, a volte sono usurate, se ne perde il significato, ma dirigente nobilita, dirigente attribuisce responsabilità positive. Magari sarebbe stato più giusto dire criminale, terrorista, che aveva la responsabilità morale, materiale di quello che ha fatto. Però noi abbiamo una responsabilità, voi avete una responsabilità, che è quella di trasmettere correttamente la memoria e il significato della memoria.